Troppo in fretta Renzi, troppa urgenza, in fondo insomma tutta sta corsa per il Senato si può rallentare, studiare bene, senatori elettivi, non elettivi e poi tutto il resto naturalmente, l'economia in primis. Ma direi assolutamente no, io credo che l'Italia non possa più aspettare, finito il tempo dei giochetti, quando qualcuno giocava a fare le riforme mettendosi di accordo con l'altro per essere rallentato, qui nel nostro paese siamo arrivati al capolinea, o cambiamo le cose oppure sinceramente non c'è speranza per il futuro, allora è meglio andare a votare anziché galleggiare. Fare le riforme, bisogna certamente rispettare le parti sociali, però devono fare a fine in fondo il loro ruolo, devono dare un contributo per il cambiamento e non uno a rallentamento, quindi rispetto reciproco per andare avanti. Rispetto alla riforma del Senato, noi abbiamo una posizione diversa da quella che tutti gli altri pongono ed è quella di eliminare il Senato, qui è un problema di fondo, il Senato serve, se serve allora non va eliminato, riduciamo il numero dei parlamentari e riduciamo i costi. Ma se il Senato non serve e noi riteniamo che abbia rallentato l'attività legislativa del nostro paese, il sistema bicamerale, allora bisogna eliminarlo. Un senaticchio come senatori, da una parte i sindaci delle grandi città, dall'altra parte i presidenti di regione, devo dirlo, io il sindaco l'ho fatto in una piccola città della Sicilia e non avevo tempo di respirare. Pensare che qualcuno part time possa fare il senatore due volte a settimana guidando una grande città e una regione è una grossa presa in giro. Decidiamo che il Senato va tolto, tanto se serve un organo di garanzia c'è già la Corte Costituzionale. Anche oggi con il sistema bicamerale spesso viene chiamata la Corte Costituzionale a intervenire per vedere se le leggi rispettano i principi costituzionali. Allora facciamo le riforme, facciamole in fondo estremamente e poi per cortesia lasciamolo stare Calderoli. Io voglio ricordare che lui è il padre, l'ispiratore del famoso Porcellum, che facciamo una fatica enorme a togliere, ecco, una priorità sicuramente alla legge elettorale, perché fai che non andiamo a fare le riforme, bisogna votare, finiamo veramente nel limbo. Una riforma elettorale subito che dove sia fondamentale, ma le riforme evitiamo di farle fare a Calderoli.